Peter Pan A Londra è sera tardi e a casa Darling i piccoli Gianni e Michele stanno giocando con le loro spade di legno. Fingono di essere Peter Pan e Capitano Uncino. Papà Darling è arrabbiato perché i bambini hanno disegnato una mappa sulla sua camicia. Secondo lui è colpa di Wendy, la figlia maggiore, perché racconta sempre ai fratellini la favola di Peter Pan. Ma lui esiste davvero, appena chiesto a Wendy di ricucirgli l'ombra. E per ringraziarla invita lei e i suoi fratellini sull'isola che non c'è. Prima però li spruzza con la polvere magica della Fatina Trilli, così potranno volare come lui. Ecco l'isola. Peter Pan indica la nave di Capitano Uncino, il suo peggior nemico. All'improvviso dal vascello pirata parte un colpo di cannone. I ragazzi lo evitano, ma l'atterraggio sull'isola non è certo facile. Mentre Peter Pan prende Wendy tra le braccia, Gianni e Michele cadono fra i cespugli. Per fortuna stanno tutti bene e possono fare conoscenza con i bimbi sperduti, gli amici di Peter Pan che vivono con lui sull'isola che non c'è. Gianni e Michele si uniscono subito al gruppo e decidono di partire per un'esplorazione dell'isola. Intanto Peter e Wendy vanno alla laguna delle sirene, ma presto scoprono che Capitano Uncino ha catturato Giglio Tigrato, la figlia del capo indiano Toro in piedi. «Ditemi dove si nasconde Peter Pan!» ordina il pirata alla ragazza. Peter interviene subito. Con un trucco riesce a confondere Uncino e a portare via Giglio Tigrato. E quando Toro in piedi vede che la figlia è salva, nomina Peter Pan indiano onorario. Ma Uncino riesce lo stesso a scoprire il rifugio di Peter Pan e dei bimbi sperduti e quella sera manda i suoi uomini a catturarli. Solo Peter non viene preso. Per lui Uncino ha un regalo speciale, un grosso pacco con una bomba. Peter Pan sta per aprire il pacchetto quando Trilly corre in suo aiuto. La Fatina strappa la bomba dalle mani del suo amico e la porta lontano. Intanto Uncino sulla sua nave vuole che tutti i bambini diventino pirati. Wendy si rifiuta e per punizione deve saltare in mare da una passerella. Ma ecco che Peter Pan la salva appena in tempo. Capitano Uncino e Peter Pan cominciano a combattere, ma il ragazzo è molto più agile. Infatti, durante la battaglia, il pirata perde l'equilibrio e cade in mare. I bimbi sperduti salutano il nuovo comandante del vascello pirata. «A Londra!» esclama Peter. E grazie alla polvere magica di Trilly, la nave si alza in volo nel cielo stellato. Per i piccoli Darling è ora di tornare a casa, ma non potranno mai dimenticare la loro fantastica avventura. Fine E grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.